Eccolo Cesare Battisti. È arrivato poco fa a Ciampino con un volo speciale direttamente da Santa Cruz della Sierra, la città boliviana dove era stato individuato e catturato da una squadra speciale dell'Interpol, formata da investigatori italiani e locali. Ad aspettarlo il ministro dell'interno è quello della giustizia. Negli ultimi anni Battisti aveva trovato rifugio in Brasile, ma una volta salito al potere Bolsonaro, che aveva promesso di riconsegnarlo all'Italia, era sparito di nuovo dalla circolazione un mese fa. Una vita in fuga a quella del 64enne terrorista mai pentito, fondatore dei proletari armati per il comunismo, piccola formazione di estrema sinistra responsabile di omicidi, rapine e sabotaggi negli anni 70. È stato condannato all'ergastolo per due omicidi commessi direttamente e due in concorso con altri, ma quando arriva la sentenza definitiva della Cassazione nel 1991 è già latitante da dieci anni. Evaso dal carcere di Frosinone, fugge in Francia come molti terroristi di sinistra, approfittando del fatto che l'allora presidente Mitterrand non concedeva l'estradizione di criminali politici se il sistema giudiziario del paese d'origine veniva considerato non rispettoso dei diritti degli imputati, accusa sempre respinta dall'Italia. E comunque, ricorda oggi il procuratore Spataro che lo arrestò a Milano nel 1979, la dottrina Mitterrand prevedeva che non fossero stati commessi reati di sangue e che la condanna non fosse definitiva. Non è certo il caso di Battisti, che in Francia comunque diventa scrittore di gialli e viene adottato da intellettuali che firmano appelli in suo favore, mentre i familiari delle vittime, ricorda ancora Spataro, chiedono giustizia e non vendetta. Cambiata l'aria in Francia, nel 2004 Battisti scappa di nuovo in Brasile. 37 anni di latitanza fino a stamattina. Lo aspetta il carcere per la vita che gli resta.